Che volete? Ci serve un posto per stanotte. Chi vi cerca? Nessuno, chi ci cerca? Non vi cerca nessuno. Giusto il tempo per far passare la nottata. Appena fa giorno se non ha. Mi dispiace. Non c'è posto come dovete andare. E che fai? Ce lasci qui in mezzo alla strada? Senza aiutiamo tra di noi. Ma noi chi? Noi gente in difficoltà. Voi state in difficoltà. Io sono a favola. Andate là. Via. Fuori dalle palle. Via. A presto.